Da un altro mondo arriva Voltron, il difensore dell'universo. Ed ecco i cinque leoni che formano il Master Voltron. Sono tutti motorizzati. Si gettano nella mischia per difendere la galassia. E quando i nemici attaccano, basta ritiegare piedi e gambe, inserire le braccia, far uscire la testa e... Alla dopo, Voltron! Il Master Voltron, tutta la forza dei leoni motorizzati. Gioca giochi del carro!